Il Roadshow è stata una manifestazione che vuole comunque imprimere e dare fiducia soprattutto ai giovani che ancora è possibile, ancora è possibile creare sviluppo, essere imprenditori, credere in un futuro. Il nostro hashtag è coltiviamo il futuro. I giovani rappresentano l'entusiasmo, rappresentano la voglia di cambiamento, rappresentano l'innovazione, quindi tutti elementi che noi di Confaricoltura vogliamo rappresentare plasticamente all'interno di un'organizzazione che sta puntando molto sui giovani e ritiene che i giovani siano il volano dell'agricoltura di domani. Noi stiamo puntando tantissimo su di loro anche attraverso misure del PSR, attraverso gli aiuti comunitari, tant'è vero che all'interno del nuovo programma di sviluppo rurale c'è una parte dedicata proprio ai giovani con grandissima opportunità per questo mondo che è un mondo che se si approccia in maniera adeguata all'agricoltura potrà avere grandissimi risultati. Siamo a casa e sono contento perché io quando torno a casa sono sempre contento, visto che c'è un'organizzazione veramente bella, devo dire che sto girando in tutta Italia e così tanti ragazzi ancora non li avevo visti. Il fine qual è? Il fine è quello di riuscire a portare sui territori una serie di informazioni per i ragazzi che fanno parte degli istituti, che sono iscritti negli istituti tecnici oppure nelle facoltà di agraria. Ci sono una serie di opportunità oggi che sia il mondo della politica che il mondo dell'associazionismo danno ai giovani che hanno intenzione di iniziare o comunque di continuare a migliorare quella che è un'attività agricola e noi diciamo che come mission principale abbiamo quella di divulgare questi strumenti e di sostenere i ragazzi in questo percorso. Quindi strumenti a disposizione che passano attraverso l'associazione che in questo caso chiaramente sono i giovani di confagricoltura.